Pompa di calore pura o caldaia ibrida? Ciao a tutti, sono Antonello e anche quest'oggi faremo una delle nostre chiacchierate in cui parleremo di tecnologie applicate alla climatizzazione. Quest'oggi cercheremo di capire non qual è il prodotto migliore, perché come dico sempre non esiste un prodotto migliore in assoluto, esiste il prodotto migliore per il mio impianto, per le mie esigenze. Allora, quali sono le differenze tra una pompa di calore pura e una caldaia ibrida? La pompa di calore pura è un circuito frigorifero, esattamente come quello di un climatizzatore, in cui però vi è un gruppo idronico, quindi uno scambiatore, in cui il gas e il freno, quindi il gas che gira nella unità esterna, e l'acqua di impianto, si scambiano calori, ok? Quindi il calore prodotto dalla pompa di calore si trasferisce sull'acqua dei termosifoni o sull'acqua calda, no? Quindi abbiamo un sistema unico in cui, al posto di un bruciatore fondamentalmente, abbiamo un compressore che fa girare il gas caldo all'interno di questo scambiatore. La pompa di calore ibrida, invece, o caldaia ibrida, è una pompa di calore che è collegata, tramite sempre uno scambiatore, a una caldaia a gas. Quindi la pompa di calore scalda il ritorno dell'impianto, fin quando la riesce a scaldarlo. Quando non ce la fa più, per vari motivi, la caldaia entra in compensazione. Inoltre la caldaia produce anche acqua calda, in genere in modalità istantanea. Quindi abbiamo due sistemi che sono simili, ma allo stesso tempo diversi. Da un lato troviamo coloro che parteggiano per la pompa di calore pura, che vi dicono che è il sistema migliore in assoluto, e che le pompe di calore ibride sono delle mezze ciofeche, delle schifezze, della roba processata male, perché chi fa caldaia non è capace di fare pompe di calore, che sotto i 5 gradi la pompa di calore non funziona e va solo alla caldaia, e quindi alla fine d'inverno non serve a niente, che consumano alla fine uguale alla caldaia a condensazione. Invece chi parteggia per la pompa di calore vi dirà che la pompa di calore contiene il meglio delle due tecnologie, si adatta a qualsiasi impianto, non vi darà mai problemi. Insomma, dove sta la verità? La verità, come spesso accade, sta un po' al centro, o meglio, forse nessuna delle due parti, nel senso che tutto quel che ho detto e che purtroppo circola sul web, visto che adesso tutti sono diventati professori, è fondamentalmente falso. Ma per capirlo andiamo ad analizzare quelle che sono le reali caratteristiche che differenziano i due prodotti. Partiamo dalla pompa di calore, no? Che è forse la più semplice da spiegare. Quali sono i grandi vantaggi della pompa di calore? Beh, sicuramente il rendimento, e fin qui non ci piove. Una pompa di calore renderà più di qualsiasi caldaia, o stufa, o altro prodotto che lavora con la combustione. La combustione ormai non ha più niente da dare. Quindi siamo arrivati a un livello tale che non avremo mai ulteriori miglioramenti. E la pompa di calore ad oggi ha dei rendimenti che sono superiori a qualsiasi altro tipo di prodotto a combustibile. Quindi, dal punto di vista puramente energetico, la pompa di calore scormenta il prodotto migliore. Un altro vantaggio della pompa di calore è che avete la possibilità di fare una casa totalmente a no gas. Voi staccate la vostra caldaia, staccate il vostro recchio di una cottura, installate un'induzione e una pompa di calore e la vostra casa è libera completamente dalle bollette del gas. Avete una casa a emissione zero. Inoltre, a differenza di qualsiasi altro prodotto a combustione, la pompa di calore, andando ad energia elettrica, ha la possibilità di alimentarsi gratuitamente tramite il fotovoltaico. Quindi abbiamo la possibilità di autoprodurre il nostro combustibile. Inoltre, il conto termico. La pompa di calore riesce molto tranquillamente a ottenere il conto termico, cosa che diversamente con la pompa di calore ibrida non riusciamo a fare, visto e considerato che abbiamo un sistema in cui la potenza della pompa di calore e quella della caldaia vanno a sommarsi, quindi vanno a superare la potenza limite rispetto a quello che era la caldaia precedentemente installata. E quindi, per normativa, il conto termico non è possibile ottenerlo. Inoltre, un grande vantaggio è la bivalenza della pompa di calore. Se noi abbiamo un sistema radiante o un sistema ventil-convezione, abbiamo la possibilità, con un'unica macchina, di poter fare il freddo d'estate e il caldo d'inverno. Naturalmente, con i giusti dimensionamenti e la giusta progettazione. Ma allora, le pompe di calore vincono sempre e comunque? Sono effettivamente il sistema migliore in assoluto? Non necessariamente, perché anche le pompe di calore ibride hanno i loro vantaggi. Ad esempio, un grande vantaggio delle pompe di calore ibride è la loro compattezza. Perché? Perché, mentre la pompa di calore pura, per sua formazione, per il modo in cui è stata progettata, il modo in cui funziona, per produrre acqua calda ha bisogno di un bollitore di grandi dimensioni, una famiglia di quattro persone ha bisogno di almeno 200 litri di bollitore, la caldaia ibrida o pompa di calore ibrida, che dir si voglia, produce l'acqua in istantaneo, quindi con lo scambiatore della caldaia a gas. Quindi questo vi dà la possibilità di avere esternamente una macchina esterna che è grande più o meno come un normalissimo trial split. E dentro un'unità interna che è composta da una caldaia e un gruppo idronico che, messi insieme, occupano poco più spazio di una normale caldaia, perché in genere il gruppo idronico è posto dietro, quindi la larghezza e l'altezza sono sempre le stesse, sono leggermente più profonda. Sono macchine che in linea di massima rientrano tranquillamente nel pensile di una cucina. Quindi a livello pratico installare una pompa di calore ibrida non va a modificare molto gli spazi di un'abitazione, anzi probabilmente non li cambia per nulla. Inoltre la pompa di calore ibrida è molto più versatile. Perché questo? Perché io poi parlo di... Quando parlo di pompa di calore e apri e chiudo una breve parentesi, parlo di un solo prodotto. In Italia abbiamo solo un prodotto degno di essere chiamata pompa di calore ibrida. Ed è la pompa di calore della Daikin, non specifico la multiibrida. Perché questo? Perché rispetto a tutti gli altri prodotti, che sono prodotti da aziende che in realtà hanno fatto sempre solo caldaie e che quindi non fanno nient'altro che comprare un'unità esterna da un terzo produttore cinese in genere, quindi comunque di qualità inferiore. e di cercare di farla funzionare tramite uno scambiatore e un'interfaccia elettronica con le loro caldaie tradizionali, Daikin ha un sistema totalmente diverso. Perché Daikin produce sia le caldaie che le pompe di calore. Quindi Daikin può creare un sistema ad hoc in modo tale da sfruttare a pieno entrambe le tecnologie. Tant'è che ha la possibilità di poter ad esempio andare a parzializzare il lavoro della caldaia e della pompa di calore. La maggior parte, o quasi tutte le pompe di calore in circolazione, lavorano per on-off, ovvero finché ce la fa la pompa di calore, lavora lei, poi a un certo punto si spegne completamente la pompa di calore e parte la caldaia. Vanno in on-off. Daikin invece ha un sistema elettronico molto più raffinato che va a misurare il COP, quindi la resa dell'unità esterna della pompa di calore, lo paragona e quindi lo rapporta al costo dell'energia elettrica e del gas e valuta quanto far funzionare la pompa di calore e quanto far funzionare la caldaia. Questo permette di sfruttare al meglio effettivamente entrambe le fonti di energia. Ha un altro vantaggio. Le pompe di calore multi-hybrid si chiamano multi-hybrid perché sono collegate a delle unità esterne multi-split e quindi si ha la possibilità di usare un'uscita da collegare al gruppo idronico della caldaia, mentre le altre due, tre, quattro uscite ha degli split a espansione diretta. Questo ci dà la possibilità di poter usare la pompa di calore ibrida sia in freddo che in caldo, sfruttando la caldaia, la pompa di calore d'inverno per scaldare i nostri radiatori ad esempio e gli split che lavorano appunto col gas della unità esterna indipendentemente d'estate. Inoltre ho la possibilità di usare l'acqua calda della caldaia d'estate e contemporaneamente senza alcun tipo di interruzione usare gli split al freddo, cosa che ad esempio non è possibile fare su una pompa di calore pura perché la pompa di calore pura esattamente come una caldaia tradizionale ha una valvola a tre vie, quindi o fa l'acqua calda o fa il riscaldamento. Un altro vantaggio delle pompe di calore ibrida è anche l'assorbimento, nel senso che la pompa di calore ibrida, avendo anche l'aiuto della caldaia, può avere un assorbimento elettrico inferiore, quindi se non ho la possibilità o non voglio semplicemente aumentare troppo il mio vattaggio per quanto riguarda il mio contatore, con una pompa di calore ibrida riesco a restare in parametri insomma un pochino più umani. Inoltre, non è detto che uno voglia necessariamente staccarsi dal gas, non è che il gas adesso sia tutto questo demonio, se uno vuole continuare a usare il suo fornello a gas e vuole comunque avere la possibilità di avere una caldaia, può comunque usare entrambe le tecnologie. Inoltre, col sistema multiibrido, essendo un unico sistema che lavora assieme, abbiamo la possibilità di poter scaricare tutto il sistema, quindi anche la parte fredda, o anche gli split, in detrazione fiscale del 110%. Secondo il decreto legge uscito proprio ieri, quindi parliamo del 12 maggio 2020, che dà la possibilità tramite fonte di energie rinnovabili, quindi riqualificazioni ecologiche ed economiche delle abitazioni, di avere una detrazione del 110%, quindi più di quanto andiamo a spendere, in un imborso IRPEF di 5 anni. Se noi invece facessimo caldaia e colonizzazione e split separati, avremmo la caldaia e colonizzazione al 110%, ma iscritta al 50%. Questo ci permette di avere un grande vantaggio dal punto di vista fiscale. Quindi, come abbiamo visto, non c'è un vincitore, non c'è un sistema migliore di un altro, ognuno ha le sue peculiarità. Certo, se uno guarda il rendimento puro, il sistema migliore è la pompa di calore. Io a casa mia ho fatto così, ho montato una pompa di calore, un'impianta a induzione, ho fatto un sistema allo gas. Ed è certamente il sistema ideale dal punto di vista dell'efficienza energetica. però anche la pompa di calore ibrida ha i suoi vantaggi, sia dal punto di vista del dimensionamento, che dal punto di vista della versatilità, che anche dal punto di vista, sotto certi aspetti, delle detrazioni fiscali. Quindi, chi vi propone una pompa di calore ibrida non è necessariamente una persona poco coerente. le pompe di calore ibrida oltretutto lavorano tranquillamente sotto i meno 5, meno 10, meno 15 gradi, senza alcun problema. Io ho installato un impianto a un cliente che tra l'altro era un mio ex compagno di classe, pensate, e lui è contentissimo. Mi ha chiamato l'altro giorno, mi ha detto, guarda, è mattina prima, sono uscito questa mattina prestissimo, c'era a meno 5 gradi e la caldaia funzionava regolarmente e io scaldavo la casa solo con la... scusate, la pompa di calore funzionava tranquillamente, io scaldavo a casa mia solo con la pompa di calore, a meno 5 gradi, senza alcun problema. Quindi, chi vi dice che sotto i 5 gradi le pompe di calore non funzionano, allora o dice una cosa non vera, oppure conosce solo prodotti di scarsa qualità. Con prodotti seri riusciamo a lavorare tranquillamente e avere dei grossi risparmi energetici, rispetto alla semplice caldaia condensazione. Pensate che sempre questo mio cliente ha sostituito una caldaia condensazione con due anni di vita, quindi ancora nuova, con una pompa di calore ibrida e in due mesi ha risparmiato 800 euro di gas. Questo per farvi capire la reale efficienza dei prodotti ibridi di qualità. Spero di esservi stato utile, se vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto mettete un dislike, posso anche non essere piaciuto, può succedere. Se avete qualcosa da dirmi potete scriverlo nei commenti qua sotto, qualsiasi dubbio sono a vostra disposizione, un caro saluto, ciao a presto. Grazie. Grazie.